Siamo stati fra i primi paesi ad applicare la carta d'identità elettronica che potrebbe tranquillamente essere utilizzata come tessera elettorale, insomma potrebbe contenere tranquillamente i dati che sono contenuti nella tessera elettorale e quindi essere un buono strumento per questo tipo di innovazione. Dopo aver lottato contro un mai l'inesorabile è scomparso sabato sera a 62 anni Vincenzo Mossetti, vice segretario generale del Comune di Napoli, una storia professionale durata 33 anni e vissuta al vertice della tecnostruttura di piazza Municipio. Aveva ricoperto tutte le maggiori cariche di Palazzo San Giacomo, da direttore generale a capo di gabinetto e ragioniere generale. Laureato in giurisprudenza alla Federico II e specializzato in diritto sindacale, aveva frequentato la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione a Roma e lavorato con il CNR, l'Università ed il Tribunale di Ariano Urpino prima di entrare al Comune nel 1981, diventandone poi dirigente nell'88. Le sue competenze professionali, unanimemente riconosciute ed impiegate al servizio della città, gli hanno fatto ricoprire incarichi di particolare responsabilità con i quali ha segnato il cammino della macchina amministrativa e per i quali ha continuato a lavorare fino all'ultimo, fin quando le ultime forze gliel'hanno permesso, continuando a studiare le deliberazioni e i procedimenti di maggiore importanza.